Bimbe, buongiorno, bentornate. Tu devi andare a catechismo e quando torni devi studiare, assolutamente, scienze, perché la verifica e geografia, perché la verifica, amore, hai la verifica, sei felice? No. Allora, invece noi dobbiamo andare nel frattempo a comprare questi benedetti cartoncini colorati, perché te li hanno chiesti, e quelli dello scorso anno si sono smarriti. Ho un serbo, per voi, una sorpresa. Cosa? Cosa? Scusa? Cosa? È una sorpresa. Le sorprese non si riempiono. Ma per domani? Allora, oggi che giorno è? Il primo dicembre. Ok, vediamo quanto siete intelligenti. Adesso valuterò il vostro quoziente di intelligenza, Mimì e Cocò. Cocò, dimmi, cosa succede il primo dicembre? Sì, c'è festa. Quale festa? Siamo in discoteca, guardate che casino, ragazzi. Il primo dicembre è venerdì. Allora, solitamente, a dicembre, ma non in tutte le famiglie necessariamente, il primo dicembre accade qualcosa. Ma l'abbiamo mai fatto? Sì. A quanto poi lo scoprirai? Dai. Ma è grande appiccato? È una festa? Non è proprio una vera e propria festa. Se fosse festa, quest'ora dovrebbe arrivare qualcuno. Ma i nonni non vengono qua. Fino è che il primo dicembre le famiglie arrivano i nonni o arrivano i cugini. No, magari. Vabbè, allora, io sono più contenta che voi non lo abbiate capito, così la sorpresa sarà maggiore. Sicuramente, sicuramente, sicuramente sarete non felici di più. E soprattutto io quest'anno mi sono superata, perché sono andata fuori dai canoni di questa cosa. E qui sono andata fuori dai canoni per questa cosa e quindi non sarà il solito regalo, ma sarà diverso. Un cane. Uscivo io di casa se arrivo per cane, amore. Questa è grande appiccata questa cosa? L'abbiamo già vista? Non è una persona? No, non è una persona, è un oggetto, è un oggetto. E vieni qua, tanto non lo troverai mai primo, secondo. Adesso prepariamoci perché dobbiamo andare... È grande o è piccola? Cioè, dipendo da cosa intendi, grande o è piccola. Ma giochiamo con questa cosa? Si gioca? Si gioca per tutto l'anno. Eh, sì, scusa, si gioca per tutto il mese di dicembre. Ah, ho capito il calendario dell'avvento. Sì, è vero. Ah, quando l'anno non ci sono. Il calendario? Vabbè, allora, brava Vanessa, brava Vanessa, ma io quest'anno mi sono non superata di più. Quindi, stai... Eh, 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 allora, ascoltatemi un attimo. No, non c'è niente. Ascoltatemi un attimo. Ascoltatemi! Mi dovete ascoltare. Non c'è, ragazze, ma secondo voi è qua il calendario dell'avvento. È piccolo come sempre. Allora, non dovete cercarlo, perché tanto io non ve lo darò finché Vanessa questa sera non avrà finito di studiare e di ripetermi perfettamente la lezione di scienze e la lezione di geografia. Cos'è un calendario dell'avvento? Ah, tu non lo sai cos'è il calendario dell'avvento. Bene, bene. È un calendario dove tu leggerai tutti i giorni della settimana e ogni giorno ha un santo. Punto finito qua. Ah, allora lo sai. Ah, ma sono quei cioccolatini buonissimi che io amo, che voglio sempre. Anastasia, tu ami tutti i cioccolatini, non solo quelli del calendario dell'avvento, poi ci sono tantissimi calendari dell'avvento. Non è detto che io abbia scelto quello dei cioccolatini, visto che ne mangiamo tutto l'anno a miliardi. Quello no, quello no che... Guarda che mi stai facendo una magia. È un cerchio. È buonissimo che vedo dentro c'è il latte. Ma tu intendi il soldino? Cioccolato. Tu intendi il soldino? Sì. No. No, no, che soldino! Colore piatto. È un cerchio. È un cerchio. Va bene, non ve lo dico perché secondo me... Ci sono caramelle, pataline. Ci può essere di tutto, ma io vi ripeto. E ve lo ripeto, ve lo ripeto, mi sono superata. Allora cuccioline e cuccioline, come avrete ben ascoltato, quest'anno mi sono superata con il calendario dell'avvento. E quindi, scrivetemi nei commenti, però adesso, non dopo, perché dopo scoprirete tutto. Secondo voi, quale calendario dell'avvento io ho scelto quest'anno per Vanessa e... Dov'è? Anastasia che lo sta cercando? Ma non lo troverà mai, non lo troverà mai. Ma secondo lei io lo metto qua, così. Però brava Vanessa, che ha indovinato. All'inizio non c'era arrivata, ma poi invece sì. Va bene, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Adesso ancora... Non ce l'abbiamo il calendario di Vanessa e Anastasia? Cucciolini e cucciolini, vi piacerebbe avere un calendario di Vanessa e Anastasia. Sai che Vanessa mi ha dato una buona idea. Sapete perché sono alta? Perché? Perché sei sullo sgabello che la mamma ha comprato, che vi metterà nella cabina armadio, così che da oggi in poi, sarete voi a ritirare i vostri vestitini. E non io, e non io, e non io. Vanessa, da oggi in poi troverai tutti i tuoi vestitini piegati sul letto e tu col tuo bellissimo sgabellino te li ritirerai nell'armadiettino. Ciao, ciabattine! Ciao, cosa ci fate lì? Ci sono le mie ciabattine, perché noi siamo disordinati. Noi siamo andata a scuola. Sì che sei andata a scuola. Ani. Va bene, portiamo Vanessa a catechismo e ci vediamo dopo. Ciao! Ani, dobbiamo andare, dai che è tardi per Vanessa. Tra cinque minuti deve essere a catechismo, siamo ancora a casa. Dai! Sei pronta? Sì. Andiamo, dai. Ascoltami, non puoi uscire in tempo. Eh, lo so! Ah, non mai. Allora, Vanessa, ok, siamo arrivati. Mi raccomando, quando esci dobbiamo andare a comprare quelle cose per Anastasia, perché adesso non faccio in tempo e poi ti devi mettere in testa che devi studiare, perché altrimenti io non vi do niente. Va bene? Ciao, buona lezione. Ciao. Ciao, amore. Ciao, amore. Ciao, amore. Ciao. Ani. Adesso io finisco di lavorare. Tra un'ora andiamo a riprendere Vanessa e poi andiamo a comprare quelle due cosine per te, ok? Poi Vanessa studia, sì, no, i fogli. Poi Vanessa studia e poi... Sorpresina. Mi sono anche già in ritardo, eh, perché in teoria questa sorpresina doveva essere consegnata prima di oggi, però fa niente. Meglio tardi che mai, tesoro. Allora, amore, dai, sono riuscita a finire. Manca mezz'ora che esce Vanessa, proviamo a vedere se troviamo questi cartoncini colorati prima che esca Vanessa, altrimenti dobbiamo andarci qui dopo con lei e perdiamo un po' di tempo, però va bene. Provati, li ho trovati. Mi sento una donna super fortunata. Sono loro? Dimmi di sì. Sì, è solo che la copertina non lo piace. Ma fa niente, ascoltami, tu li devi ritagliare, giusto? No, ma serve proprio la copertina. Davvero? Ma cosa stai dicendo? Mi stai prendendo in giro? Ma va che vanno bene. Sono fogli colorati. Ma noi ci siamo. Voi dovete fare dei lavoretti di Natale, immagino, giusto? Dovete ritagliarli a forma di stella? Quindi sono perfetti. Fidati della mamma, ok? C'è il rosso. Se non c'è il rosso, mi sparo. No, allora, lì c'è. Sì che c'è, guarda. Eccolo. Va bene? Dai, prendiamolo. Questo è un colore. È bordeaux. Rosso bordeaux. Rosso bordeaux. Prendi, andiamo. Mamma mia, che fortuna. Ti contenta, amore. 14, 13. Lo stai sfogliando? Bianco? No, è tipo verde. Verdino chiaro? Sì. Bello. Però non li rovinare adesso, amore, ok? Dai, andiamo fuori dalla chiesa. Aspettiamo Vanessina che finisce. Sono proprio contenta perché non avevamo tanto tempo. E poi da qui qualcuno dice no, non sono 24, ma c'è pure scritto. Perfetto, amore, sai contare. Brava, andiamo e aspettiamo fuori da lì. Guardate. Sei contenta, amore mio? Sì. E io sono più contenta di te perché sono stanchissima e non avevo assolutamente voglia di andare fino alla cartoleria. Che fortuna. Tornata Moon & Mure. Dobbiamo studiare? Attenta, Anastasia. Abbiamo trovato i fogli. Adesso devi studiare. E poi, sorpresa, sono eccitatissima per questa super sorpresa. Ma possiamo mangiarlo oggi uno? No. E magari non si mangia, che ne sai. Devi studiare. Dopo ti do la sorpresa per adesso. Quando hai finito di studiare, altrimenti ti distrai. Poi prima c'è il dovere, poi c'è il piacere. Dai, amore, inizia a studiare. Hai fame e ti faccio la pasta, va bene? Però inizia a studiare. Ah, ma le bistecche impanate. No, prima la pasta. Ok. Continuando tu che stai lanciando tutte le cose dallo zaino. Devi mettere i cartoncini. Ragazzi, vengo i miei squishy a 850 euro. Va bene. La fragola è, faccio poco, 150. Aha. Il fiorellino 51. I trucchi sono cari. I trucchi di Vanessa sono cari. Vanessa make up squishy. Dove mi sentire, come è squishyoso. Quindi questo dai, su 500. Wow. E questo qua, 300. E quindi abbiamo superato la cifra, sai? Ok. Va bene comunque, va bene. Mi piace questo tuo business di squishy. Quindi c'è il link in descrizione. Dove acquistarli? Dove poterli acquistare? Va bene, va bene. Vedete? Adesso vai a studiare. Sei riuscita a infilare... Dove è me? Hai tolpo. Ancora lì sono. Anastasia. Ora amore, stai mangiando con il libro a fianco. Ma a che punto sei? Non hai iniziato ancora a studiare? No, sì. Bene, cosa stai combinando? Lo stai buttando tutto per terra. Non puoi scuotere la busta se è aperta. Vanessa, vedi di muoverti e di studiare perché io non ti do tanto tempo. Dopodiché i regali li do a tua sorella e tu ti attacchi quest'anno, ok? Dai. Allora, Ani, è molto probabile che tu riceva il regalino, la sorpresina, ma non tua sorella. Che sta solo mangiando. Sta solo mangiando caramelle. No, sono buone. Studia. Studia. Ragazzi, cucciolini, diciamoglielo tutti insieme. Studia, Vanessa. Studia. Ragazzi, vuoi? No, amore, basta perché... No, 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 basta. No, ho già mangiato le caramelle. Sì, va bene. Sì. Allora, cucciolini, sono venuta giù in taverna a prendere le sorprese per Vanessa e Anastasia. In realtà, le sorprese sono due per entrambi le bimbe. Però, per adesso, gliene faccio vedere soltanto una. E poi, quando saranno a letto, vi farò loro l'ultima sorpresa. Sorprese prese. E voi avete ricevuto il calendario dell'avvento. Se sì, scrivetemi nei commenti quale. Eccomi qua. Allora, Vanessa, tu non hai ancora però finito di studiare. E questa cosa mi sta facendo molto, molto, molto arrabbiare. Non guardate. Non guardate. E ditemi un po'. Sì. E' un calendario. Sì, è il calendario dell'avvento. Ma quale? Non lo so. E contro te. Ma come dei me contro te? Non so neanche... Dei di insieme. Dei di insieme. Ma perché hanno fatto il calendario dell'avvento e me contro te di insieme? No, no. Della Juve. Ok, tu della Juve? Juve. E tu della Juve? Sì. Ma che cosa della Juve? I dolci? Della Juve? I dolci. I dolci. Quindi voi vorreste ricevere un calendario dell'avvento di dolci? Sì, Juve. Con i giochi. Non lo so. Ma a te cosa piacerebbe ricevere? Un calendario dell'avvento. Ma quale? C'è, sai, ci sono un sacco di tipologie. Io quest'anno ne ho trovate due che sono la fine del mondo. Non lo so. Per me, eh. Poi magari a voi non piacciono. Poi mi prometti che finisci di studiare? Sì, sì. Allora, mi promettete un'altra cosa? Non guardare a Stylini. Non, Gianni. Che non litigate? Ok. Me lo promettete? Ok. Il tema è lo stesso di entrambi, per entrambi. Però dentro ci sono magari cose diverse, nel senso. Simili, ma diverse. Perché la marca cambia. Ok? Nel calendario. Ok? Sì. Promettete di non litigare solennemente? Ditelo. Promettiamo di non litigare? Mai per quello che troviamo all'interno. Qualsiasi cosa noi troveremo all'interno sarà ben accetto. Ringrazieremo la mamma per tutto il 2024 per questo stupendo regalo. E non litigheremo mai più in tutta la nostra vita. Scusa? E tu non vuoi il calendario dell'avvento? No, sì, dai, dai. Guarda che tu dopo devi studiare, perché oggi è il primo dicembre, ma non è senso che tu possa aprirti tutti i giorni se non studierai. Però oggi apriamo l'uno. Oggi aprirete l'uno. Va bene? Dai, dai, dai. Anche se sera fa niente. Pronte? No. Allora, non so quello che tirerò fuori. C'è anche un altro che non è vostro. Perché se no lo lascio giù. Spettate perché non mi ricordo bene nemmeno io, eh. Devo riguardarmi un attimo. Non vi ho fatto i pacchetti. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, aspettate un secondo. Ok, questo credo che sia di Anastasia e questo di Vanessa. Allora, pronte? Via. Chiudete gli occhi che ve li metto sul tavolo. Però chiudili, eh? Chiudili, eh? Sì. Chiudili, eh? Ce li avrete in fronte a voi. Guardate un po' con i cionini che meraviglia. Posso aprire? Aprite gli occhi. Avete capito che cos'è? Cosa vuol dire? Ma che cos'è? Eh, leggete dietro. Dietro c'è scritto, eh, che cos'è. Sì, che capisco tutto. Ci vedi? Piccolissimo. Vabbè, ve lo spiego io. È il calendario dell'avvento make-up. All'interno ci sono trucchi, bombe di sapone. Ma io volevo mangiare. Mangiati le bombe di sapone. Ma Vanessa, ma con tutti i dolci che ci mangiamo tutto l'anno. Ma non siete contente? No. Davvero? No, sì. No, non è vero, non siete contenti? No, non è vero. Ci siete rimaste male. Io che credevo di aver fatto una super cosa. Guardate che bellissimo. E' diverso. Lo apro io, Nastasia, perché tu lo distruggi. Guardi, vuoi aprire il fiamco? Non lo so. No, non vuoi aprire il fiamco. Con le liqua. Fiamco. Vediamo. È bellissimo, vale. Una. Guardate che bello. Ma è gigante l'uno. Quanto sei. Ma guardate, cucciolini. Ma voi non sareste contenti di ricevere una cosa del genere? Qua non sei più contenti di niente? Devo aprire. Ma aspetta tua sorella che sta ancora cercando di aprire la scatola. Sentite quanto sono profumati questi calendari. Non ti piace, Ani? Sì. Cosa c'è dentro? Aspetta, Ani, tu, ad aprirlo, eh. Cos'è? La masch... Per fare le maschere al viso. Hai visto? Guarda, tu non ce l'hai. Eh, cosa ti ho detto? Ma ce la fai, questo cervello? Ma io non mi capisco. Guarda che puoi anche prestarle alla tua sorella e lei ti presta il suo. Comunque anche tu hai, Anastasia, queste cose. Non so se è il numero uno, però le hai. Hai. Hai, Anis. Piano. Piano, Anastasia. Hai visto che ci verte lei? Ma non è una maschera. Ma cosa ne sai tu? Magari no, eh. Perché tu hai più prodotti per il bagno, hai le bombe di sapone. Vediamo. Per quello ti ho preso questo guano. Ecco, bombe. Faccia alla crea. Hai visto? Questo è un sapone per lavare la faccia. È simile al tuo. Il tuo è una maschera e il suo è un sapone. Siete già in lotta. Ok. C'è già competizione tra quello che vi state trovando. No, io ho cioccolatini. No, ma veramente? Non ci siete rimaste bene? No, io sì. No, non è vero. Siete qua che mi state dicendo che volevate i cioccolatini? Ragazzi, ma i cioccolatini li mangiavano tutti i giorni. Era un calendario inutile quello dei cioccolatini. Oddio, vuoi avermi sentito? Non è l'originale? Ah, vabbè, ma ci sono rimasta male. Manca un grazie, mi avete detto. Manca un grazie. Io che pensavo di essere stata speciale come sempre. Vabbè. No. Dove vai? Ma cosa fai che cade? Scendi. Non c'è tanto la mette. Sì, va bene. Vai. Cosa fai? È un grazie. Ma sei sicura? Perché a me non mi sembri tanto convinta. Insomma, ci siete rimaste male? No. Sì. No. Sì. Non mi hai neanche detto grazie? Grazie. Prego. Prego, amore. Sì, ma sono dei grazie un po' forzati da me. Stai studiando, amore? Allora, adesso? I muscoli? Sì. Domani la verifica. Adesso? Adesso sto colorando e sto studiando alcuni muscoli per la maestra. Te li ricordi un pochino? Mh. Sono pochi, ma poi, insomma, voglio dire, sono i muscoli principali che abbiamo. Quelli ripassiamo. Adesso però devi velocizzare perché dobbiamo andare a dormire. Vi portiamo sui calendari dell'avvento che tanto sono tutti da tenere in bagno. Domani compro un cestinetto dove metterli dentro ogni giorno. Va bene? Ciao. No, io qua. No, io qua. Sì. Perché mi rincolvi? Guardate così, no? Guardate ragazzi, lei gioca con le barbie, li butta tutte per terra e le ritira di cesto. Abbiamo la casa piena di cesti, perché non so più dove metterla a roba, mamma mia. Ci vorrebbe un'altra casa. No, è che le fai male se io lo lancio addosso, no? Stai zitta. Ascolta, Anastasia, portiamo su poi la calendari dell'avvento? Sì. Ma mi prometti che usi tutti i prodotti che trovi? Stasera ti lavi la faccia con quel prodotto? Sì. Lo posso usare anch'io? No. Grazie. Ego. Andiamo a dormire, è finito di studiare. Scusami, faccio così paura? Sì, adesso vuoi anche insultarmi dopo che non hai insultato per il regalo che ti ho fatto? No, sì che ho insultato. Ma insomma, mica tanto. Sì. Vabbè, andiamo a dormire? Yes. Dai, Anastasia, andiamo? Dai. Domani è più. Brava, male. Domani è più molto, appena mi sveglio e lo apro. Il due, però hai portato su l'uno che adesso ti lavi la faccia con quello? No, l'uno ce l'ho qua dentro. Eh, lo stai portando su? Sì. Va bene. Ragazzi, sto andando a prendere il secondo regalo, non mi devo assolutamente far beccare. Ma avete visto come ci sono rimaste male? Dicono di no, ma secondo me sì. Secondo voi? Scrivetemi nei commenti se secondo voi ci sono rimaste male oppure no. Brava. Sì, invece sì. Sì. Dai, more, andiamo a metterlo insieme. Io l'avevo già aperto, hai sbagliato. Ah, ok. Pensavo fosse nuovo. Ah! Vai, dai, provalo. Tu l'hai provata la maschera, Vane? No. Ma come si mette? Perché no? Adesso no. Eh, vabbè, devi usarla oggi. Ma adesso no. Come si mette? Dai, cosa vorrei cosa vuoi? Devi tenere 5 minuti. Non ne voglia. Ah, come si mette? È un sapone, amore. Tira bene indietro i capelli, tanto per iniziare. Mi temo, allora, così. Cosa c'è? Perché vi guardate così? Non lo so. Vi dicate sempre. Ma è lei che mi guarda così? Io non lo sto neanche guardando. Cosa stai facendo, te? Ti tiri fuori da quella vasca? No. Quanta pazienza. Allora. Dai. E niente, è come lavarsi la faccia, è un sapone. Ecco. Perché non la fai la maschera? Ci vogliono 5 minuti. Ok, la faccio io. 5 minuti? No. 5? Non tu, lei. Lei è una maschera che poi la puoi usare come sapone. No. È un sapone, ma. È una maschera. Il tuo è un sapone, amore. Non metterlo su gli occhi. Ma un po' da questa. Metti un po' da questa. Alla mezza. Prima ho lavato la faccia. Ok. Va bene, dai. Mi metto un po'. Brava. Occhio agli occhiechi, eh. Mi è lavato, amore? Come ti senti? Delizio. È profumata? Farmi sentire. Oh, ma come bella morbida. Sei contenta? Poi domani vi compro un cestino, mettiamo tutti i prodotti che troviamo tutti i giorni. Lo sai che dentro il tuo, ma penso anche in quello di Vanessa, ci sono anche le bombe per fare il bagno. Ah, sì. Sei contenta, amore, allora? Sì, ma non mi sveglio. Oggi mi sono svetta così. Ah, sì? Ah, tu hai dormito tantissimo questa notte perché ieri sera ti sei addormentata sul divano prestissimo finalmente. Vabbè? Sì, credo che alle otto. Sì, non ti ricordi niente. Va bene, dov'è Vanessa, Vane? Vabbè, amore, non mi vuoi entrare in camera. Puoi venire un attimo, potete venire un attimo. Ma io sono presa. Eh? Sono preso. Ah, visto che ve lo meritate, guarda. Spendi la luce in camera mia. Ancora un attimo. Sì, un attimo. Ok. Alt. Allora, state qui. Sotto i sederoni dei cagnoloni e dell'orsacchiotto. Bisogna fare? C'è un sorpresotto. Però guarda, poi mi pento sempre. Che bello. Visto che eravate dispiaciute, vi ho voluto omeggiare anche di questo. No, vabbè, però voi due alla fine mi fate pentire di tutto perché litigate sempre dalla mattina alla sera e io non sono felice. Allora, ormai li ho presi. Prego, eh. Prego, prego, prego. Grazie. Grazie. Ciao, grazie, grazie. Perché lo sapevo che avreste voluto anche questo. Apriamo due. Non ho 150 anni, tanto per. Ma dovete aprire l'uno? Ti sei lavato i denti, Anastasia? Eh, l'altro. Te li rilavi, eh? No, non li ho lavati. Come non li hai lavati? Ah, non li hai lavati? No. Anche questo? Quale preferite? Questo. Cioè, non lo so. Ma che l'altro è bello, eh? È particolare. Ok, dov'è uno? Non so, vi è ancora lì. Un sono di cinque, starà ancora cercando l'uno. Io lo so. Guardalo qua, l'uno. Aspetta, facciamo insieme. Ti aiuto, Ani? Non mi muovi. Pensa che questa confezione la vendevano doppia. È forte, eh? C'erano due confezioni al prezzo di una. Mi sentiamo detto le casse, ma questo bambino non compro niente. Non l'ho presa in un supermercato, l'ho presa online, quindi. Ah, online? Certo, amore. Ma quando ci sono arrivate? Mmm, subito. Ma va, ce li ho da un po'. Erano giù in taverna. Ma mamma, cioè, io ho sentito il pacco. Quale pacco? Quando ho suonato. Ma non è oggi? Sai da quanti giorni è che ci sono? Eh, ma vabbè, intendo. No, non c'eri, amore. Lo Snickers! E tu? Un problema. Cosa hai rotto? Non l'ho aperto un po' anche me. Eh, non potete fare niente. Ma avete voglia davvero di mangiare? No, 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 hai già mangiato il dolce. No, Ani, te lo mangio domani mattina a colazione, dai. Così domani quando torni da scuola ne hai un altro. Ah, che buono. Ani, ho detto no. Ma dai. Oh, Ani, guarda. Possiamo trovare questo qua? Ce ne sono due. C'è scritto dietro. Guarda se girate le scatole. Vedete quello che c'è. No, dentro. Ma cos'è questo? Sarà un pezzo di cioccolato. Buono. Buono. Va bene, bambini, ascoltatemi bene perché veramente adesso è diventato tardi. A me sì, lo mangio io quando lo trovi. Brava! Anastasia, ti è caduto il cioccolato, non lo puoi più mangiare. No, non lo puoi mangiare, ci sono le scarpe. Ti dormi io, Ani, che me non piaccia. Ani, stop. Aspetta. Mamma, Anastasia, per i dolci va fuori di testa. Eh, 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 eh. Stop. Ascoltatemi un attimo. Possiamo concludere un secondo il video perché io so... Se ti viene un'infezione, guarda, se rimani viva te le prendi, eh. Giuro. Ma ti piace o non ti piace? Non sei ancora ben capito. Ascoltati. Ani, basta. Ci sono i vermi. Ci sono anche i vermi. Ma che fame hai? Ma non è fame la tua. E' in gordigia, basta. Non metti. Non metti. Vabbè, ragazzi, allora. Se lo sta mangiando, Dio, sei penosa. Non lo mangiare. Per favore. Io te l'avevo detto di tenerlo per domani mattina. Chi è? Ma un po' ti mangio, eh? No. Dammelo a me. Non lo so. Dove vai? Dove vai? Allora, cuccioline, cucciolini, io vi saluto perché queste due sono ingestibili. No, lo sto facendo però, dai, lo sto facendo. Ma vai, fai quello che vuoi, la strada. Ah, ci sono i vermi. Abbiamo camminato per i piedi. Guarda, magari c'è un lato pure in giardino. Ma che schifo, veramente. Lascia stare, buttalo. Cosa ti ho detto io prima? Non mangiarlo. Mangialo domani mattina. Il tuo egoismo di... Gesù, bambino, ti ha pulita. Non mangiarlo, dammelo a me. Dammelo a me. È finita in tragedia. Anì, ti do un pezzo se salutiamo. È inutile che piangi. Te l'avevo detto io che non dovevi... Che non dovevi mangiarlo oggi ma dovevi aspettare domani. Te l'avevo detto? È inutile che piangi. Anì, ti do un pezzo se salutiamo. Ho detto solo ancora. Saluta, se no si scioglie. Salutiamo i cucciolini. Salutiamo. No, mangiare. Cucciolini, anche se riesco a mettere i canali, a mettere i canali, a mettere i canali. A questo video, ciao. Ciao. No, mangiare. Grazie a tutti.